Chi non ama il fratello non prega seriamente. Qualcuno può dire, in succo di odio non si può pregare. In succo di indifferenza non si può pregare. La preghiera soltanto si dà in spirito di amore. Chi non ama fa finta di pregare. O lui crede che prega, ma non prega. Perché manca proprio lo spirito che è l'amore. Nella Chiesa, chi conosce la tristezza o la gioia dell'altro va più in profondità di chi indaga i massimi sistemi. Per questo motivo c'è un'esperienza dell'umano in ogni preghiera, perché le persone, per quanto possano commettere errori, non vanno mai rifiutati o scartate. Quando un credente, mosso dallo Spirito Santo, prega per i pecatori, non fa selezioni, non emette giudizio di condanna, prega per tutti. Grazie. Grazie. Grazie.